Oggi è rosa, e la trattata volta, o fa volta, riguardano così. Oggi è rosa, e la trattata volta, o fa volta, riguardano così. Oggi è rosa, e la trattata volta, o fa volta, riguardano così. Oggi è rosa, e la trattata volta, o fa volta, riguardano così. Oggi è rosa, e la trattata volta, riguardano così. Grazie. 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 Grande. Grazie. Grazie. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.